Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera. Allora, allora, in questo video vorrei parlare delle pre-partite della formazione del pronostico di Juventus Inter, partita valevole per l'invio della 26esia giornata di campionato. Mamma mia ragazzi, ditemi come cazzo si fa a giocare una partita durante questo momento di coronavirus? Con tante malattie, persone in fin di vita che stanno morendo? E voi pensate al calcio mentre la gente muore? Ragazzi, io di far giocare questa partita sono contrario. Io avrei bloccato il campionato definitivamente già ieri. Voi se no, aspetto questa partita per bloccare il campionato. Cosa aspettate? Che perdiamo stasera e poi bloccate il campionato? Eh, riconosciamo troppo bene a voi, eh? Troppo bene. Io in questo video partiamo con la formazione. La Juventus giro con 4-3 con Chesney in porta. Quadrado, destra, Alexandro, sinistro come tezzini di difesa. Centrale, Bonucci, De Ritt. A cento campo vi sono. Ramsey, Bentancur e Matuidi. E in attacco vi è tridente. Sui treni avanti sono da rascosti Iguarini e Ronaldo. Bella squadra, buona squadra. Io avrei tolto Iguarini e Matuidi e avrei messo Di Bara e Rabiot. Iguarini non lo vedo bene, Matuidi neanche. Rischiamo di giocare in nove e può essere un traccolo per noi. Invece non dobbiamo pensare al traccolo e a perdere. Stasera cerchiamo di vincere la partita. In qualche modo. Perché stasera potrebbe essere anche l'ultima partita della nostra stagione. Può essere come una finale. Quindi vinciamola e prendiamoci tre punti con l'Inter. Per una partita molto importante. Bene, parliamo del pronostico. Per me Juventus-Inter finisce... 2-1 per la Juve, 2-1 per la Juventus. Con i gol di... Di Bara e Ramsey nella Juventus. Di Bara che è subentrato. E un gol di Lukaku nell'Inter. Prima di salutare il volo di Vida Corte, ragazzi. Pensiamo... Noi dobbiamo pensare... A parte che come vi ho detto sono contrario alla partita di risoluzione. Sono contrario al 100% di far giocare. Però noi pensiamo... Adesso dobbiamo pensare... Prima la salute. Il calcio è l'ultima cosa che dobbiamo pensare. Però vabbè. Ho mai gioco con il che bisogna farci. Con questo è tutto. Vi auguro una buona serata e una buona partita. E fino alla fine, forza Juventus! Ciao ragazzi!